buonasera questo è un messaggio che mando alla persona che mette like sulla comunità di youtube un ennesimo messaggio questa volta però un messaggio tranquillo senza pretese a me fa anche piacere che tu mi segui perché in qualche modo io non mi sento solo in questo youtube perché quando metto post del genere condivido link foto per esempio questo tuo like nella parte mi fa anche piacere perché mi fa sentire come fossi in compagnia su questa piattaforma carità è una cosa da niente per me sono un tipo che mi accontenta pure di poco io penso che tu sei una persona che mi conosca perché altrimenti saresti rivelata da mo però giustamente non vuoi non pretendo che non voglio pretendere che tu ti possa voglia può forzare a rivelarti anche se mi farebbe piacere sapere chi sei perché confrontarmi magari sapere se ti piacciono i miei link se ti riveli nei miei link negli stati d'animo dei link che metto ho capito che comunque sei una persona quello che ho capito che credi che sappiamo che lei o lui un brutto periodo se ti va io sono disponibile anche a un confronto a civilissimo educatissimo a confrontarci a sempre se ti va ovviamente perché più volte fatto l'errore come il mio solito di forzare la mano e non ottenuto nessun risultato e ti lo dico molto educatamente se non di questo video adesso non so come mettere tutti i follower non so come farlo vedere come farlo intervirare questo video però ci tengo perché tu mi fai compagnia in qualche modo perché in quei giorni in cui non hai messo like mi sono sentito abbandonato però mi sono sentito inutilmente mettere questi link inutilmente questa persona non mette più like io penso che non sia più una persona penso che la stessa persona che mette like mi aggrappa poco ragazzi qualcuno può dire ma questo è mongoloide questo si aggrappa le piccolezze le briciole io non so chi sia adesso posso poter dire che la mia ex amica valeria che era la mia ex ragazza marina la mia ex valeria quello che volete voi non ho certezza non ho prove infatti non ne ho e non posso dire che sono loro e se lo sapessi quello lo sapessi rimanerebbe una cosa privata cioè non andai in giro sapete che quella mi mette like e sapete non farei un video su di loro la cosa rimanerebbe privatamente più privata per me deve essere privata e rimanerebbe anonima la cosa a me guarda mi fa molto piacere che tu mi segui faccio questo video cerco di essere il più bravo possibile spero di essere il più bravo possibile mi fa piacere che mi segui perché come ho detto mi sento in compagnia quando metto questi posti mi sento che non vanno a vuoto e mi fa sempre piacere vedere questo tuo like infatti quando non lo vedo mi rimango un po' male su youtube io vorrei vorrei non pretendo non ti fosse vorrei però e mi sarebbe molto piacere fare molto piacere che tu avresti un confronto con me potessi avere un confronto con me educato magari consigliandomi anche quello che ti ha cose da mettere link da mettere se mi conosci è ancora meglio perché evidentemente sarebbe il dato che mi segui e gradisci i miei post mi sarebbe anche piacere sapere chi sei e se vuoi sempre se vuoi puoi dirlo detto questo buona giornata e buone cose